Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A1 in direzione Bologna, acco dei attratti tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. Rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Firenze Sud e in Cisareggello in direzione Roma. Spostandoci sulla FIPILI, coda in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze. Su raccordo Siena-Firenze per lavori rallentamenti tra San Donato e Poggi Bonsi Nord in entrambe le direzioni e tra Impruneta, Gravenchianti e San Casciano in Val di Pesa in direzione Siena. Si informa che per la giornata di venerdì 20 settembre è stato indetto uno sciopero del trasporto pubblico locale. Info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!